Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Diatriba Clan, sempre gotti con voi per un nuovo episodio di Rival Kingdoms Torniamo finalmente su questo gioco dopo un po' di assenza, mi scuso con tutti quanti ma ho avuto da fare Sono stato anche all'estero quindi non potevo chiaramente né registrare né caricare i video sul canale So che vi sono mancato e quindi torniamo alla grandissima E continuiamo una serie che sembra vi sia piaciuta molto, ovvero quella dei titani Continuiamo quindi a vedere alcuni titani insieme, a capire come funzionano E vediamo se riusciamo insieme a trovare qualche spunto per utilizzarli al meglio Una cosa che ci tenevo a dirvi Diciamo sono stabilizzato in un regno Mi farebbe piacere quindi passare più tempo all'interno di un regno Cominciare a gestirlo insieme agli amici che ho fatto in questi mesi di gioco E chiaramente sarei felicissimo che anche voi che seguite il canale Se non avete un regno o volete semplicemente cambiare Facesse un salto qui da noi a vedere un po' come funziona Vedete in alto a sinistra il nome del regno Esso Sita Potete tranquillamente fare richiesta Non abbiamo nessun limite di livello o quant'altro Diciamo che vogliamo un po' riportare il discorso che abbiamo fatto su Clash of Clans Anche qui su Rival Kingdoms Per cui basta che voi abbiate voglia di giocare Voglia di divertirvi e stare insieme E sarete benvenuti e felici di essere qui con noi Non ci dilunghiamo troppo su questo aspetto Perché avremo un modo magari poi di vederlo in futuro più nello specifico E cominciamo a pensare a questo video Andiamo a decidere intanto quale titano utilizzare L'altra volta abbiamo utilizzato Viscaria Un titano di terra E direi quindi di cambiare genere E stavo pensando a Surrich Un titano che io in primis avevo fortemente sottovalutato all'inizio Perché chiaramente si pensa Questo è il primo titano che il gioco mi dà Non serve neanche trovarlo Sarà sicuramente una schifezza E si abbandona durante il gioco Invece questo titano non è affatto male Vedete che l'ho apportato al livello 29 Non è chiaramente il massimo che io posso raggiungere Che è ora il livello 35 Però ci ho cominciato a giocare un po' di più Ho fatto 71 vittorie E vediamoci insieme un po' i poteri Il primo che non è un granché come anche il terzo Scatena una pioggia di fuoco che infligge 4 ondate di danno Per un totale di XXX Il secondo invece Che è quello che ci interessa maggiormente È uno scudo Si chiama armatura nerita E dimezza i danni subiti da fonti magiche Ed elimina gli effetti negativi più comuni Per 11,2 secondi Concludendo con il terzo C'è l'evocazione di un elementare del fuoco Il secondo spell Diciamo quello dello scudo L'ho trovato molto interessante E vorrei quindi insieme a voi Andarlo a provare In arena Visto che ormai io sono Praticamente fisso in arena Fortunatamente Andiamoci a vedere un po' Se questi avversari ci possono permettere di utilizzarlo E vedere insieme come funziona Allora essendo chiaramente un secondo spell Sarà necessario avere la possibilità di accumulare mana Per poterlo diciamo scatenare Per cui dovremo andare a vedere Quelle che possono essere delle strutturazioni del villaggio nemico Che ci diano modo di distruggere portali O se non altro strutture Prima di arrivare a contatto con le torri incantesime In questo caso per esempio vediamo Ci sono molti portali esterni E ci sono soprattutto Le torri tutte accorpate in questa parte Cosa che ci potrebbe permettere di distruggere la fortezza Senza grandi problemi Dobbiamo solamente stare attenti a questa torre follia Ma ce la dovremmo riuscire a fare Combattiamo questo avversario Ci andiamo a mettere il nostro bell surrich Ho già sbloccato il primo potere grazie ai livelli E direi di penetrare semplicemente qui Dritto per dritto Andando ad accumulare mana con queste strutture E vedere un po' cosa succede Forse potrei mettere qui un portale di balestrieri Per rubare ulteriore mana da quei portali E poi si va a posizionare lo scudo Vedete che anche la torre follia In questo caso è inerme contro surrich Questa è una cosa fondamentale L'effetto della torre follia è davvero devastante In alcuni contesti E lo scudo di surrich permette di essere immuni a questo potere Quindi vedete che le truppe hanno alla grande Superato la prima difesa nemica Stanno già distruggendo la fortezza Messo il drago dopo per pulire alla grande Ecco qui vedete che continuano le truppe ad andare verso le torri Senza nessun problema Hanno praticamente come vedete quasi tutta la vita Nonostante abbiano incontrato tre torri E poi semplicemente andiamo a velocizzare e concludere Per fare una grande vittoria E ci portiamo a casa questi dieci trofei Niente di che Però comunque abbiamo visto una base con quattro torri incantesimi Realmente annientata da surrich Proviamo a metterci un po' di diamanti Vediamo un po' cosa esce Cento anelli Che non fanno mai male chiaramente Direi di procedere con un altro attacco Vediamo cosa ci capita E che cosa dire di surrich Surrich è come vi dicevo prima Un titano che molti sottovalutano Che io stesso avevo sottovalutato inizialmente Ma che invece merita Merita attenzione Perché Le torri incantesimi Che sempre di più Si vedono nel gioco Sono basate un po' su questa follia Chi è riuscito ad entrare in arena Vuoi o non vuoi Utilizza Zilla E mette molto in difficoltà Gli avversari Per cui surrich Può essere veramente un ottimo compromesso Per Per riuscire a Sì avere uno scudo Dalle difese Che avere La protezione Dalla torre Zilla Anche in questo caso Vediamo Per esempio Ci sono questa e questa struttura Che potrebbero Una volta Una volta distrutte Indirizzarci le truppe qui E penetrare Verso queste difese Con lo scudo Riusciremo ad essere protetti Da questa e da questa torre E quindi dovremmo riuscire Agilmente ad arrivare Al castello Vediamo se Ho fatto dei film E dei viaggi Che in realtà non esistono O se Ce la riusciamo a fare Utilizzerai questi elementari Per distruggere Questa casetta E il drago Su questo estrattore Dai elementari Distruggi Perfetto Andiamo a posizionare I nostri soldati Con il nostro Paladino Le truppe adesso Dovrebbero cominciare A penetrare Il nostro drago Va a rubare Un po' di mana Ci serve Un Una pallina di mana Per sbloccare Lo scudo Le nostre truppe Cominciano Ad avere dei problemi Ma adesso Con lo scudo Dovrebbero continuare A penetrare Facilmente Essere curate Dai paladini E dovrebbero arrivare Al Allo Stronghold Non mi viene la parola Alla fortezza Eccoci Riuscite a distruggere Le due Le due Torri Abbiamo adesso Il nostro drago A disposizione Lo avviciniamo Alla fortezza E ci andiamo A prendere La vittoria Con il nostro drago Che andrà Dopo aver distrutto Questo Portale Ad allontanarsi Dalla torre di fuoco E andiamo qui A distruggere La fortezza Con il drago Tutto molto Non molto Ma abbastanza semplice Anche in questo caso Surrich Ci ha permesso Di Scardinare Le difese avversarie E riuscire Agilmente Con il nostro drago Con un po' di attenzione Sul posizionamento A distruggere La fortezza Ancora 100 anelli Buoni Ne abbiamo fatti 200 In due attacchi Direi di vedere Un ultimo attacco Ancora Con Surrich Vediamo un po' Che cosa Che cosa succede Allora In questo caso Abbiamo queste Queste disposizioni A cunio Che Non mi piacciono Per niente Da attaccare Soprattutto Quando Soprattutto in questo momento In cui Nei bunker Ci sono Gli elementali Di natura Perché sono devastanti Io prima utilizzavo Due Diciamo Truppe Di soldati Un soldato Da una parte Uno dall'altra Per pulire Le strutture esterne E poi andavo Qui in alto A posizionare I balessieri Che mi aprivano Uno squarcio Nelle mura Con questi Cavolo Di elementari Di Di natura Non si riesce Perché i soldati Vengono demoliti Dal Dal veleno E quindi Mi tocca Al più delle volte Schippare Questa tipologia Di villaggio Allora In questo caso Invece abbiamo Sicuramente Due torri Molto lontane Che ci potrebbero Dare il tempo Di accumulare Il mana necessario Per lo scudo Ci dovremmo preoccupare Solo di questa torre Quindi andiamo Quindi andiamo E attacchiamo Questo Questo avversario Ci sono anche tantissime Qui difese In up Però Facciamo finta Che non ci sia Noi attacchiamo Senza Diciamo Simulando Un attacco Un attacco Un attacco normale Senza Senza difese In up E quindi Mettiamo I nostri I nostri soldati I nostri balestieri Dietro A accumulare Il mana necessario Per lo scudo Eccolo qui Lo abbiamo Già pronto E adesso Comincia la penetrazione Vera e propria Dei soldati Che guardate Nonostante ricevano colpi Praticamente Da tutte le difese Non hanno grandi problemi A rimanere in vita Guardate questo gruppo Di soldati qui sotto È praticamente Immortale Andiamo a curare Una seconda volta Un po' più che curare A proteggere Le nostre truppe Ed ecco qui Che la penetrazione È stata Praticamente Devastante Il drago Viene posizionato In questo caso Anche senza necessità Alla fine E si va A distruggere A fare un bellissimo 100% Praticamente Con tutte le truppe Ancora vive Grazie a questo scudo Andiamo ad aprirci L'ultimo forziere Andiamo a incrociare Le dita Ancora diamanti Vediamo se ne riusciamo A beccare Un bel sacchettino E invece cosa esce Un primus di morte Di 5000 Che comunque è sempre utile E è meglio di niente Detto questo Spero che anche Surrich Vi abbia dato Insomma Attaccando insieme Qualche spunto Per utilizzarlo Insomma Per magari Non sottovalutarlo Come abbiamo fatto Finora Vi chiedo Come sempre Di Lasciare un commento Con il prossimo Titano Che vi piacerebbe Vedere Che cosa Insomma Che cosa Vi potrebbe interessare Magari una Diversa tipologia Magari uno Di ghiaccio O uno Di fulmine Vi lascio Diciamo Di nuovo Una schermata Dei titani Che ho In modo che Possiate Scegliere Tra quelli Che chiaramente Io ho Perché altrimenti Non ve li posso Far vedere Sapete tanto Comunque Tutti quanti Di che Di che Tipologia Sono Quindi Scegliete Tra questi Fatemi sapere E io come al solito Cercherò di esaudire Il vostro desiderio Ho potenziato Molto Talasin Quindi potrebbe essere Questo Anche uno Dei Possibili Titani Nei prossimi Nei prossimi Episodi Vi ricordo Se avete piacere Di giocare Con me Con Proj Di entrare Nel nostro regno Ci troverete lì Come a solito A vostra Completa disposizione Un saluto Da Gliadriba Clan E ci vediamo Nel prossimo episodio Un bacio da Gotti Baci ai pupi